Ciao a tutti, sono Yasin e faccio sto video perché volevo augurarvi un grosso grosso aspetta che mi metto bene volevo augurarvi un grosso 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 in bocca al lupo per il Memoria Pratizzoli che si tirerà domenica se siete lì vuol dire che siete tra i più forti della vostra regione sono sicuro che vi farete valere perché si inizia da queste gare qua divertitevi e fatevi coraggio un abbraccio, ciao ciao Grazie a tutti